L'artista ha recuperato un po' la notizia di questa cosa che veniva fatta nell'antica Grecia e anche un po' di Salento, un po' nel passato, nei paesi. Era un po' questa idea che se qualcuno si trovava in una situazione di sconnessione era proprio la loro interiorità, la loro spiritualità, poteva ritrovarsi dormendo in un luogo sacro, quindi le persone venivano accompagnate a dormire in un luogo sacro e in questa situazione si riconnettevano con parti L'artista ha pensato che questa cosa del dormire può portare più che a riconnettersi con il a riconoscere il proprio passato con la propria sacramenta. Questa è iniziale. Questa è iniziale. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.